Vai! Olè, pronti per la carica? Siamo forti, forti come un toro! Fate uscire il torero! Tutti quanti! Al giro! Tutti quanti! Al giro! Tutti quanti! Ciao, sono Giulia, otto anni, vengo da Guidonia in provincia di Roma. Lui è Davide, guarda il suo video! Ragazzi, indovinate di cosa parla il prossimo pezzo. Di un orango? Di un topolino? Basta, dicelo tu! Ragazzi, sta arrivando la nuova scende dei cartoni dello zecchino d'oro! Via! Lei è Elisa, lei è Camilla e lui è Francesco. Guarda il loro video! Che fai? Siamo proprio una grande squadra! Concorrenti alla linea di partenza! Io se fossi te non ne sarei tanto sicuro! Lei è Elisa, lei è Camilla e lui è Francesco. Guarda il loro video! Lei è Veronica! Guarda il suo video! 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 Guarda il suo video!